Ciao a tutti io sono Nell'IRFA e oggi andiamo a vedere come sbloccare la missione del castello dei sogni quindi come andare a sbloccare il castello dunque ragazzi ciao a tutti e oggi andiamo a vedere come andare finalmente a sbloccare il castello ci eravamo lasciati con Merlino che ci aveva dato la missione dobbiamo completare un po' tante missioni in giro per la mappa e dopo dobbiamo andare all'interno del Dreamlight vedete ogni volta che andremo a cliccare quando abbiamo completato questi tipi di missioni vedete che qui in alto ci dà un punteggio, una specie di moneta e questi si chiamano i Dreamlight quando abbiamo raggiunto i 2000 Dreamlight potremo andare a completare questa missione quindi vedete adesso sto andando a completare un po' tutte queste voci ecco 1600, vediamo se c'è ancora qualcosa altro da andare a completare ovviamente se non avete abbastanza monete vi basterà semplicemente andare a completare le varie missioni ok abbiamo raggiunto i 2000 dunque una volta che abbiamo raggiunto i 2000 di Dreamlight dobbiamo andare a trovare Merlino lo potete trovare al pozzo nella mappa se non sapete dove è in questo caso si trova nella sua casa quindi andiamo subito al suo studio dunque allora eccoci arrivati allo studio di Berlino quindi una volta ottenuti i 200 Dreamlight andiamo a parlare semplicemente con lui ecco allora adesso ci dirà che abbiamo abbastanza Dreamlight per andare a togliere le spine a questo punto una volta terminato il dialogo con lui dobbiamo uscire e andare lì davanti al castello ovviamente ragazzi dovete andare a completare più missioni prima di questo passaggio se non sapete come fare guardate un po' i video che ho fatto in precedenza dunque allora andiamo su questo ponte e qui ci troviamo di nuovo Merlino e questa volta possiamo andare a cliccare sulle spine dunque allora adesso andiamo a dare i 2000 Dreamlight e quindi a questo punto Berlino ci toglierà le spine e possiamo finalmente entrare nel nostro bellissimo castello ok ragazzi per oggi abbiamo terminato anche con questa missione se avete le domande fatele qui sotto nei commenti e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima con un altro importante video ciao a tutti grazie a tutti